Il boutique hotel al grappolo d'oro è un'antica dimora ottocentesca ristrutturata che si trova a Torgiano in uno dei borghi più belli d'Italia. L'albergo nasce dal desiderio di creare un'autentica boutique nel cuore del nostro paese nativo cercando le eccellenze in ogni aspetto. La dedichiamo inoltre una particolare attenzione anche alla cura del dettaglio, alla qualità e alla scelta di prodotti biologici selezionati con passione e amore serviti a colazione nell'incantevole veranda panoramica immersa nel verde in compagnia del profumo della natura e con il canto degli uccelli come colonna sonora. Provare per credere Grazie a tutti.